L'intuizione nella nostra azienda nasce di pari passo con il bisogno di trovare un prodotto specifico da proporre ai nostri clienti per staccarci da quello che è l'arredamento ordinario. A fine anni 80 e inizio anni 90 creiamo una collezione di porta cd di design che ci permettono di entrare nel mercato estero mentre successivamente negli anni 2000 con l'avvento di tv al plasma creiamo pareti tv attrezzate dall'ingegno di mio padre che è Pino Wismara siamo arrivati a creare la collezione Luxury Entertainment che è specifica per l'intrattenimento delle case di lusso. Si sviluppa in due specifici settori che sono tavoli da gioco e poltrone cinema reclinabili con i vari accessori. Abbiamo creato un concept generale che ci permette di proporre sale giochi e sale cinema a chiave in mano. Samsung è un brand ad alta tecnologia lo sappiamo da decenni lancia prodotti innovativi ogni anno sicuramente la tecnologia unita al lusso e quindi a quelle che possono essere le soluzioni messi in campo da Wismara va a valorizzare quello che è il nostro prodotto e quelle che sono le nostre soluzioni. Wismara è importante anche perché ci permette di spingerci verso nuove mete in termini di integrazione tra tecnologia e design sicuramente entrambi condividiamo dei valori di qualità di design e di personalizzazione della nostra offerta in particolare con queste soluzioni home cinema la tecnologia si integra all'interno del progetto dell'artigiano e quindi di fatto diventa esso stesso parte di una componente artigianale di costruzione di un progetto ad hoc per il cliente. Questo cinema led è un prodotto che oltre ad avere una forza pazzesca per quanto riguarda la tecnologia ha una forza commerciale non indifferente in quanto il nome Samsung permette al cliente di avere un prodotto custom che non fa parte della grande distribuzione e che quindi il cliente può avere in esclusiva. Samsung sta investendo tanto in ricerca e sviluppo come ha fatto di fatto in tutti gli ultimi anni sicuramente in ambito display in questo momento le tecnologie più interessanti sono legate alla tecnologia QLED in ambito televisori e tutto il mondo dei led componibili per quanto riguarda la tecnologia cinema e on cinema. Mi piace sottolineare anche la collaborazione che noi stiamo mettendo in atto con Arman. Arman è un noto gruppo audio a livello mondiale che è stato acquisito da Samsung due anni fa e quindi sempre più i nostri prodotti video vengono integrati con soluzioni audio di altissimo livello da parte di Arman e questo lo vediamo anche in soluzioni home cinema o cinema che stiamo mettendo in atto.